Konnichiwa! Ciao a tutti i pandacorni e pandacorni! Oggi è un giorno veramente favoloso Sono super 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 in ansia Perché? Mi chiederete Perché oggi è il giorno dell'incontro Ed io sono super felice E sabato non mi ricordo che data No, ok, forse 28 Sì, sabato 28 ottobre? Non mi ricordo, comunque Tralasciamo Ci sarà stasera al centro commerciale Campania È una cosa tutta organizzata da me Niente da centro commerciale Come vi ripeto sempre Sono troppo emozionata Per chi non lo sapesse È per lo speciale 20.000 iscritti Visto che me lo richiedete sempre Allora ho pensato di farlo Ai 20.000 Sono molto 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 emozionata Per stasera Adesso in mattina sto scendendo Questo è il mio outfit Se vado a mettere le scarpe Oddio Che bello Comunque fa freddissimo Anche se, come vedete, c'è un sole tremendo Fa veramente freddo Infatti metterò giacchettino E giubbino Perché fa freddo Ciao a tutti i montacorni Allora è pomeriggio Non mi vlog Da stamattina Allora sono le 5 Sono super emozionata Per stasera Questo è il mio outfit Questa conta che è veramente stupenda Guardate E poi le puma Con questi calzini Che sono Troppo carini Con il pop corn E adesso sto scendendo E viva Non sono troppo emozionata Allora Sono stra simpatica È stata già una ragazza Dopo però Non ho troppo di parti Seguite la tutela Che è grandissima Seguite Marika È troppo bello Fra Che sono i giorni Grazie a tutti E poi un giorno a me Mentre cerco un'altra come te Ma come si fa Che resta senza fare di più Che la scena ti aspetta Se quando ti guardi Ti ho tutto migliore Perdo le parole Prova con gli occhi A dirmi ciò che non riesci Ciao ragazzi Sono tornata a casa E poi le volevo ringraziare Per chi era venuto Ma anche Comunque Per chi non è potuto venire Volevo fare vedere Un unicorno Che ho comprato Da Tiger Era l'ultimo Rosa Erano tutti finiti Quando sono arrivata C'erano tre rosa Quando me l'ho voluto comprare Era l'unico E vabbè E' bellissimo lo stesso Viola Assoluta Leggermente a questo Per il colore Però comunque Gli unicorni sono Pavolosi Adesso volevo Salutare Un po' di persone Che me l'avevano Chiesto Saluto Giovanna Lorena Valente Noemi Martina Gabriella Tiziana Alessia Sara Noce Rianna E Lucia Vi mando un grosso Bacio E grazie mille Per essere venute Al mio incontro E niente Ci vediamo domani Questo giorno dopo Il vlog si può concludere qua Io vi volevo ringraziare per ieri Mi sono divertita un sacco Ci siamo un po' tutte divertite Mi fa un piacere tremendo Mi avete portato dei regali E se volete il video appunto dei regali Scrivetemelo giù nei commenti Io sono troppo felice se lo volete Per me ognuno è importantissimo Di quei regali Quindi se volete il video appunto Dei regali Niente ragazze La bandana se ne sta andando Dietro Era giusto Perfetto Io vi mando Un grosso bacione E al prossimo video Sayonara